Salve, parliamo oggi dell'iguana verde, in questo caso in una bella colorazione di livrea turchese. L'iguana è originaria del Messico, dell'America centrale e del Brasile, dove predilige le foreste tropicali equatoriali. Quando la compreremo avrà una dimensione un po' più grande di un lucertolone, ma dovremo già allestire un grosso terrario di almeno due metri per tre metri di grandezza, nel quale allorgiarla e nel quale riprodurre le condizioni tropicali del suo habitat. Nel terrario dovremmo disporre numerosi rami fogliati e fiori, garantiremo la temperatura costante di 25-30 gradi ed una grande umidità, che sarà possibile in virtù delle frequenti nebulizzazioni di acqua. L'iguana è essenzialmente un animale vegetariano, mangia lattuga, insalata, fiori di ibisco, non vanno invece somministrati loro il pomodoro e la patata. L'iguana sa essere anche un animale docile, che possiamo di tanto in tanto tenere in mano e, chi lo sa, magari crescendo, portare a spasso con una pettorina. Grazie, arrivederci al prossimo appuntamento con i consigli sui nostri piccoli animali da compagnia, come in questo caso sa essere anche l'iguana verde.